Ci racconti la ricetta tradizionale, quella antica dei Stallarius? All'antichità si faceva il brodo con la carne di gallina, dopo finito il brodo si cuoceva la pasta, poi si preparava i martelli, si metteva un po' di saporita, lo strutto e il formaggio acido e poi si rimetteva un'altra forza, fino a quando era finita la teglia e poi per cuocere si metteva nel forza vorrelle e si mettevano le braccia sopra per farli donati. Finito, si mangiava, finita la ricetta. Perfetto, grazie.